Quanto costa aprire un negozio? Questa è una domanda che molti spesso si fanno e non è così semplice da affrontare questo argomento, in quanto ci sono varie opzioni da valutare. Innanzitutto alcuni negozi hanno delle concessioni, dovete comunque pagare per avere una licenza, parliamo tipo di bar, ristoranti, tabaccherie, quindi comunque dovete affrontare dei costi burocratici, oltre che i costi di magazzino, materiale, mobili, diciamo tutto quello che riguarda un'attività. Quindi quando si parla di mettersi in proprio, visto che oggi come oggi di trovare un posto fisso è un po' difficile da affrontare anche questo come argomento, quando si tratta di scegliere di mettersi in proprio, avviare una propria attività, i costi sono onerosi e il rischio è altissimo perché non sai se quell'investimento andrà a buon fine oppure no. Il primo anno di lavoro è sempre incerto, tu non sai se rientrerai di quelle spese e quindi un'attività indipendente ma con costi di gestione e alto rischio. Allora io vi voglio dare un'opzione alternativa. Perché non valutare di mettersi in proprio, avviare un'attività indipendente, essere il capo di se stessi ma a costo e rischio zero? Perché aprire un'attività non vuol dire soltanto aprire un esercizio commerciale ed avere quattro mura, un tetto e lavorare in un negozio affacciato sulla pubblica piazza, ma si può benissimo lavorare online, cioè aprendo un e-commerce online. Ci sono moltissime piattaforme, moltissime aziende che offrono questa possibilità e quello che dico a tutti è se per un negozio siete disposti a spendere per acquistare prodotti, beni comunque che andranno venduti e a fare magazzino, una scorta, perché in un'attività online questo non si vuole fare o comunque non è ben visto? Io ve ne parlo perché ho intrapreso un'attività di questo genere, dopo che da brava dipendente con il posto fisso mi sono dovuta licenziare perché non venivo pagata e ho intrapreso un'attività in cui l'azienda mi ha chiesto di scegliere. Potevo scegliere due opzioni, avere del materiale da mostrare ai miei clienti ed avrei riammortizzato quella piccolissima spesa in meno di un mese, ma neanche due giorni, anche in un giorno solo, perché vendendo un solo prodotto avrei già riammortizzato quella piccola ed irrisoria spesa di investimento iniziale. E quindi mi domando perché le persone hanno paura di tutto questo? Quanto effettivamente si è disposti ad investire per il proprio futuro, per la tua propria vita, per il proprio lavoro, perché crearsi un'attività che può comunque dare un futuro a te, alla tua famiglia, ai tuoi figli, non è cosa da poco, ma sapere che il rischio è praticamente zero e che l'investimento è bassissimo è soltanto un incentivo a dire sì, ci provo, mi creo una rendita e mi creo un futuro migliore. E se volete avere altre informazioni, scrivete qui sotto nei commenti, vi lascio il mio numero, sarò lieta di darvi i maggiori dettagli e spiegarvi in cosa consiste la mia attività.